buon pomeriggio oggi sono qua a presentarvi il valoriani baby questo forno qui che vedete è un forno che usa gli stessi materiali dei forni professionali l'unica differenza fra questo è un forno professionale e la dimensione sia il suolo che la cupola interna sono degli stessi identici materiali cambia appunto lo spessore di ognuno di essi quindi questo è stato ideato principalmente per essere usato nelle pizzerie che vogliono avere un angolo per il senza glutine o anche sfruttando la sua elevata mobilità per fare degli eventi che possono essere nella parte esterna della pizzeria o anche eventi su feste private catering o quant'altro sempre eventi medio piccoli questo forno può essere costruito in due misure questa che vedete adesso è il valoriani baby 60 quindi 60 centimetri di diametro interno abbiamo una misura leggermente più grande con diametro interno di 75 tutte e due le misure possono avere sia il bruciatore a gas come vedete qua che l'alimentazione a legna si sceglie una o l'altra sulla variante di 75 centimetri c'è anche il bruciatore con un pannello di controllo elettronico quindi è un qualcosa in più che va ad aumentare le opzioni sul modello più grande tutte e due gli elementi possono avere la cupola rossa come la vedete qua color crema o nera a vostra scelta una cupola metallica oppure per personalizzare ulteriormente il forno si può avere anche una copertura mosaico a scelta fra le principali opzioni che abbiamo noi oppure anche su richiesta se avete qualche colore particolare che vi aggrada maggiormente questo che vedete qui accanto a me è il forno full optional quindi con il set di pala il portapale la base completa con ruote e la canna fumaria volendo voi potete prendere anche solo la prima metà del forno quindi con solo questa parte della base per appoggiarlo su un vostro piano di lavoro o anche senza il set pale questo poi sta a voi e alle vostre esigenze richiedere appunto tutti gli accessori o solo alcuni di essi